Valentino Papa, allenatore dell'Imperia Vale, una partita un po' chiusa diciamo, il 20 media pressava alto, voi forse siete un po' stanchi dei carichi di lavoro? Si, si è fatto un buonissimo primo tempo, al secondo tempo siamo calati, non ci si aveva più quella voglia di giocare la palla e siamo arretrati e poi penso che il risultato di pareggia era quello che è un po' più giusto. Fai domorare già fuori? No, c'è una rosa di giocatori anziani, importanti e numerosi, è giusto che qualcuno gioca o non gioca, ne abbiamo fatto per partite e ne abbiamo risentite. E ti ringraziamo Vale.